Si chiama Lede Lee, è stato tornato a notte per un figlio di una donna giustizia con un'emissione indenibile sulle. Lo sapete, si è scoperto però di l'uomo era un concetto, tratturando a brutta notte, si è scoperto però di un uomo era un concetto, con quelle luce. Lui non aveva cominciato a metterlo in Dio a pressione, è stato invagio, e però di Dio non aveva fatti due anni, tra giorni e tre anni, eppure due anni, secondo voi, davanti di un'azione di Dio, quando erano morti, ma non è stato lì a far farlo, dare a farlo, dare a farlo, dare a farlo. A me è credibile questa storia che sta incendendo, perfetto, è assolutamente l'uomo. Ringrazio per l'ascolto, ringrazio per la videota, vi dico il premio qua, per il 2017 che incassa il luogo difficile attraverso un'emissione reale che mi fu dato in ultima parte. Dopo quattro anni di testa, all'università del Dio a me, nelle cose digitali, dove era assolutamente più. E' assoluto in Dio della mia famiglia. Vi si vede a fare un'emissione reale a me che mi fa per il futuro. Grazie a tutti, Dio della mia famiglia. Grazie a tutti.